Omega Simaster, esplorando l'eccellenza dell'orologeria marina di precisione. Nell'affascinante mondo dell'alta orologeria, brillano i modelli Simaster, orologi da polso che incarnano l'essenza dell'avventura marina e la maestria orologera di precisione. Questi eccezionali orologi uniscono un design accattivante a una tecnologia all'avanguardia, offrendo una dimostrazione di impegno per l'eccellenza e la funzionalità. Una delle caratteristiche più distintive dei modelli Simaster è il loro design resistente e funzionale. La cassa, spesso realizzata in materiali resistenti come l'acciaio inossidabile, riflette l'attenzione all'ingegneria di alta qualità. Il quadrante, con marcatori leggibili e luminescenti, incarna l'essenza dell'avventura marina. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante abbiamo Datario a finestrella a ore 3 o a ore 6 Cronografo su due subquadranti e GMT Tra i GMT ricordiamo quello della collezione Acqua Terra con raffigurato al centro la Terra e i nomi dei paesi scritti tra un indice e l'altro. Presente anche il subquadrante dei piccoli secondi a ore 9 e nella collezione Planet Ocean troviamo una lunetta graduata a 60 minuti che permette di calcolare il tempo trascorso da un ostacolo a un altro. Il design dei modelli Simaster è stato sviluppato per resistere alle sfide degli ambienti marini, senza rinunciare a un'estetica sofisticata. La loro impermeabilità e resistenza agli urti sono testimonianza dell'attenzione alla durata. Oltre al design robusto, i modelli Simaster offrono una precisione di cronometraggio senza paragoni. Questi orologi spesso ospitano movimenti meccanici di alta qualità, garantendo una misurazione affidabile del tempo. I modelli Simaster sono stati indossati con orgoglio da celebrità e figure di spicco nel mondo dell'intrattenimento e dello sport. Dal 1995 la Omega con i suoi Simaster è diventata il partner ufficiale dell'agente segreto britannico James Bond. Da questa collaborazione sono nate edizioni speciali dedicate proprio a 007. La loro storia di eccellenza, il design funzionale e il movimento meccanico di alta qualità li rendono oggetti ambito da coloro che cercano l'equilibrio tra stile e prestazioni. Indossare un modello Simaster significa abbracciare l'arte orologera adattata all'ambiente marino. Che siano indossati in spedizioni avventurose o nella quotidianità, questi orologi saranno sempre simboli dello spirito esplorativo e dell'apprezzamento per la maestria orologera di precisione.